Musica 18.31, buonasera in diretta dagli studi di Via Silva a Milano per l'incontro con la CISL in diretta, continuo Fumagalli, questa sera parliamo di riforma sanitaria dedicata a Regione Lombardia. Continuo Fumagalli, cercheremo di capire cosa cambia per voi a casa, quali sono le modifiche introdotte nel sistema sanitario Lombardo e grazie a questi accordi quali agevolazioni poi permetteranno ai residenti in Lombardia di avere coperture dal punto di vista medico. Intanto buonasera Fumagalli. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori di Telenova. Telenova, Telenova, ricordiamo il numero di telefono per chiamarci 0248010921 in diretta, tutte le domande su questo tema, nel senso che questa sera parliamo di riforma sanitaria ma ovviamente tutte le altre domande legate al mondo della sanità, medicina, le prenderemo e cercheremo di capire con Fumagalli di rispondere ai vostri dubbi. Allora Fumagalli cosa cambia con questa riforma sanitaria, con questo accordo? Sì, intanto qualche dato per comprendere. A 17 anni di distanza dalla legge sanitaria introdotta allora c'era l'esigenza comunque di rivedere un po' e dopo varie vicissitudini siamo riusciti a fare questa cosa molto positiva perché ricordo a tutti che con i tempi sindacali che corrono non è da tutti, noi qui l'accordo l'abbiamo realizzato con Cigelle, Cisù, il confederali e con le loro organizzazioni sia dei pensionati che delle categorie attive, dei medici, cioè tutto quello che è riferibile al mondo sanitario. Cosa cambia? Cambiano, sono tante le cose ma io mi soffermerò su due o tre per vedere appunto per descrivere qual è la novità. Una delle novità più rilevanti è che verranno allargati i tempi di accesso nei servizi medici e medico-sanitari, per capirci. Ecco, cosa vuol dire? Perché attualmente come sono gli orari e quante ore in più ci sono? Le ore in più non sono quantificate però c'è scritto in modo chiaro che si estenderanno gli orari anche serali, anche come dire in giorni normalmente considerati di riposo. Quindi ci può dire che finalmente potremmo andare dal medico al sabato? Sì, sì. Magari dopo le sette di sera? Noi vediamo la trasformazione in legge però questo principio nell'accordo c'è perché la premessa è importante, è stato realizzato l'accordo con il sindacato che adesso va trasformato in una legge regionale con le disposizioni che servono affinché questi diventano legge effettiva. Però, dicevo, c'è contenuta questa novità di allargamento degli orari, di allargamento appunto delle prestazioni per far sì che soprattutto nei grandi centri urbani qual è Milano ci sia un po' più di umanità negli orari di accesso alle persone che hanno bisogno. Questa cosa quindi avverrà con uno sviluppo della rete ambulatoriale territoriale che avverrà sia attraverso l'ampiamento degli orari soprattutto attraverso la realizzazione di studi medici associati perché questo consente già da sé di ampliare gli orari e di dare appunto maggiori prestazioni. Questo è un tema importante perché adesso chi è a casa spesso cosa deve fare? Deve utilizzare o delle ore di permesso o magari uscire prima dal lavoro. Con questa riforma si va a permettere di utilizzare l'ambulatorio magari in orario serale, nel weekend, quindi è una riforma importante. Già adesso ricordo che è in atto un esperimento in diversi presidi ospedali della Lombardia dove si fanno prestazioni sanitarie di tipo diagnostico sia di sabato sia di sera, qualcuno anche di domenica mattina e l'esperimento che era ed è per adesso rimane un esperimento ha funzionato e quindi è stato recepito anche questa modalità. In qualche modo nell'accordo c'è un'altra novità. Posso chiederle però sul tema dal punto di vista delle coperture economiche? Come viene coperta l'apertura in più? All'apertura di tutti la premessa fondamentale è questa, con l'attuazione, perché poi faremo ragionamento anche sui ticket, con la realizzazione dei cosiddetti costi standard o comunque con l'applicazione dell'accordo trovato nell'ambito della conferenza Stato-Resoni, da questa nuova ripartizione la Lombardia riceverà risorse economiche maggiori rispetto al passato e comunque sia secondo le previsioni della Giunta e del Presidente Maroni in grado di coprire tutte le esigenze che verranno fuori da questi nuovi ampliamenti. Tant'è che è stato dedicato anche un'altra innovazione, si potrà avere così come abbiamo il medico di famiglia di medicina generale e viene stabilito come è avvenuto e come sta avvenendo in tanti paesi europei, l'infermiere di famiglia. L'infermiere di famiglia che, badate bene, non è solo uno slogan ma è una roba altrettanto importante quanto avere perché il presupposto di avere sia questo ampliamento della medicina in generale sul territorio sia la realizzazione dell'infermiere di famiglia consentirà uno sviluppo ulteriore dell'assistenza domiciliare evitando la istituzionalizzazione cioè i ricoveri che sono lunghi, costosi, un po' più disumani rispetto invece alla cura esercitata nel muro domestico. Quindi si va a intervenire da un lato sul punto di vista dell'umanità mi sembra di capire perché è meglio un'infermiere a casa che un ricovero in ospedale, su questo non c'è dubbio. Si va a intervenire anche dal punto di vista delle coperture economiche perché provvedere con un infermiere costa assai meno rispetto a un ricovero ospedaliero. Certo, certo. Noi puntiamo molto a questa realizzazione. Tenuto conto di alcuni dati che volevo dire all'inizio è cambiato tutto e abbastanza velocemente. Noi siamo passati per esempio per citare un dato non solo dall'immaginario collettivo ma per dire qual è la realtà che abbiamo di fronte. In 15 anni le prestazioni ambulatoriali di ogni tipo, di ogni genere in Lombardia sono passate da poco più di 100 milioni a 170 milioni che detto così non è niente ma è una cosa. Nelle 5 mila unità, in Lombardia esistono 5 mila, la sigla è UUUO, che sono unità operative quindi da ambulatori, ospedali eccetera eccetera. Passano circa, queste strutture hanno 200 mila posti letto. Avete fatto un'analisi perché oltre all'invecchiamento della popolazione qual è il dato? Sono quasi raddoppiate. In dato sono quasi raddoppiate, la popolazione si sviluppa, ahimè, per tante ragioni come dire, l'aspettativa di vita è aumentata da un continuo aumento, non si prevedono come dire diminuzioni nei prossimi 20 anni, anzi basti pensare che gli oltre 65 anni sono ormai in Lombardia già oggi circa il 22-23% della popolazione. Ma è solo questo il dato? Cioè c'è un invecchiamento o le persone magari si curano di più? No, le persone, non c'è dubbio che le persone si curano molto di più anche qui qualche dato supporto in Lombardia abbiamo circa 600 mila pazienti cronici che hanno vari problemi di cronicità e almeno 200-300 mila di questi 600 mila hanno, no ho sbagliato, sono 3 milioni di pazienti cronici quando dico pazienti cronici intendo che hanno bisogno di medicinali di vario tipo, che hanno quasi sempre l'anziano, come dire, i problemi cardiovascolari oppure diabetici oppure di altro tipo sono notevoli di questi 3 milioni di ammalati cronici che costano al sistema sanitario non poco, almeno 600 mila hanno oltre a bisogno, come dire, di medicinali e di quant'altro, hanno bisogno anche, hanno esigenze socio-sanitarie assistenziali, cioè non hanno, provi a pensare per un attimo a quanti sono le monofamiglie nella città di Milano, sono un esercito che senza un'adeguata assistenza sono in balia di tutto e di tutti e oltre alla disumanità di una cosa del genere costituiscono anche alla fine un costo, cioè comunque sia da un punto di vista sanitario è scientificamente provato che la prevenzione alla lunga costa assai meno del curare quando non c'è stata prevenzione perché è inevitabile che sia così. Ora è chiaro che non saranno risolti tutti i problemi, per carità. Ho parlato all'inizio di quello dei ticket, una delle ambizioni del Presidente, il Presidente l'ha ripetuto più volte, che vogliono eliminare o tendere ad eliminare tutti i ticket. bisogna fare un inciso, in Lombardia ahimè l'introduzione del famoso super ticket che erano i famosi 10 euro ricetta trascinati da una decina d'anni, nell'applicazione del modello Lombardo, io ne ho già parlato diverse volte in questa trasmissione, nell'applicazione del modello Lombardo, diverso da quello che hanno applicato in altre regioni per esempio in Emilia e in Toscana, ha fatto sì che vi siano alcune prestazioni che costano di più in regime di ticket che non farlo in regime di assistenza diretta. Faccio un esempio banale, la radiografia all'arcata superiore che si fa sia nei bambini che negli anziani, costa 24 euro in regime di assistenza diretta, costa 27 o 28 euro di ticket. Quindi è anche senza senso. Esatto, ne ho fatto uno ma si potrebbero fare altri esempi su diagnostiche per immagini, su radiografie varie. Allora questo va eliminato e la regione ha detto che questo sarà uno dei suoi primi impegni. Allora noi non ci illudiamo anche qui di grosse, però sarebbe già un successo se questo super ticket fosse per esempio legato al reddito, perché ci sono un mucchio di pazienti, questa è la amara realtà, che per l'elevato costo dei ticket rinunciano alla cura, cascando in quel girone che ho detto poco fa, cioè la non prevenzione o il trascurare la malattia che porta non solo la disumanità del caso in sé di per sé, ma porta anche ulteriori problemi. Quindi questo è una... Avete in mente un limite di reddito su cui... Sì, allora io non dico che bisogna copiare pedissequamente, però abbiamo l'esempio sia da Toscana, nelle miglie del Lunga, del Veneto, di tante regioni... Siamo all'aspetto del modello dell'Emilia Romagna, della Toscana, due modelli che sono anche studiati in giro per l'Europa. Certo, certo. Per la loro... Sì, anche il sistema Lombardo è stato studiato. Anche il sistema Lombardo è sicuramente a livello europeo definito una delle eccellenze. Certo, certo. Ma quali sono oggi i limiti in questi sistemi? I limiti di questo sistema, come di tutti i sistemi, è che vi è sempre l'esigenza maggiore di aumento di prestazioni legato ai dati che dicevamo prima e quindi la macchina va ritarata per mettere in campo tutte quelle cose possibili per evitare il più possibile le cosiddette istituzionalizzazioni che ho detto prima. Cioè, lo ripeto, è scientificamente provato che un giorno di ricovero in ospedale è possibile evitarlo se sia pronta in tempo e per tempo con gli adeguati mezzi, come dire, quali sono i mali di cui la gente soffre. Quindi questa era la prima necessità. Dentro ciò... Ecco, cerchiamo poi di capire, allora abbiamo detto, un passaggio importante della riforma sanitaria Lombarda a questo accordo che avete trovato con la Regione Lombardia riguarda gli orari ambulatoriali. Un secondo passaggio riguarda una... Infermiere di famiglia, come ho detto. Infermiere di famiglia. Poi rispetto ai ticket, diciamo, c'è il tentativo, la richiesta della Regione Lombardia di abbassarli o di eliminarli per alcuni casi. Poi quali sono i punti cardine del suo documento che avete firmato? Un punto cardine è il seguente. Creare una rete, uno sportello amico, non so come chiamarlo perché non so come lo chiameremo. Tentativi che abbiamo già fatto nel passato. Nel passato c'erano, come dire, qualcuno l'ha chiamato i segretariati sociali, poi abbiamo fatto quegli sportelli che sembrava che dovessero risolvere tutto, ma oggi viene ribadita, ed è dentro nell'accordo, la necessità di un punto d'accesso e di indirizzo in cui nel quale il cittadino che ha bisogno riceve tutte le informazioni necessarie per sviluppare le cose di cui ha bisogno. Sembra una banalità, ma oggi non è così. C'è una carenza da questo punto. C'è una carenza perché succede spesso che, soprattutto quelli più anziani, per capirsi, che mi stanno più a cuore, visto cosa rappresento, però non riguarda solo quelli più anziani, quelli più anziani sono costretti molte volte a peregrinare tra i vari uffici dell'ASDA perché è una domanda che ti rispondono in un ufficio, non ti dice esattamente però quali sono le conseguenze pratiche che derivano dalla domanda che hai fatto. E quindi la possibilità, anzi, un adeguato, come dire, un sistema di informazione che consente un adeguato accesso ai servizi, se no sono parole e basta, cioè noi possiamo fare tutti i servizi più belli che vogliamo, ma se non informiamo bene la gente, quindi c'è bisogno di un'informazione capillare. Ora, molte ASL nella Lombardia lo stanno facendo molto legato alla sensibilità dei direttori, oserei dire, non tutti siamo uguali. Molte ASL hanno fatto, come dire, attraverso i depriant, attraverso momenti esplicativi, una informazione, secondo noi... È un passaggio però che è legato alla discrezionalità, mi sembra dei vertici. Certo, certo. Se la guida, se il direttore dell'ASL decide di fare un'operazione di informazione rispetto al territorio, viene fatta, altrimenti non viene fatta. Eh, questo in linea di massima, molto grossonamente, ma è così che avviene. E invece, dicevo appunto, nell'accordo viene fuori in modo, come dire, lineare questa necessità di dare un'adeguata informazione per indirizzare gli eventi bisogno a un adeguato accesso ai servizi dei quali necessitano. Voglio citare, infine, anche una cosa che è banale, ma che proprio banale non è, è che dimostra che comunque, quando si hanno le idee, poi si possono fare anche alcune cose. In questi giorni, su un progetto che gli ICP, gli istituti clinici di perfezionamento, hanno presentato alla regione Lombardia, ed è stato trasformato in delibera ricevendo un finanziamento, che non so se sarà adeguato, poi lo vediamo, per intervenire sulla cosiddetta problema orto, cioè dentale, per capirci. Cioè, questa delibera prevede sostanzialmente la gratuità delle arcate dentarie, nel caso in cui il reddito non superi 8 mila euro. Con questo però sono aspetti molto interessanti in cui voglio entrare. Adesso ci fermiamo, due minuti di pubblicità, poi entriamo bene su questo argomento. Ah, vedi. Di nuovo in diretta, continuo Fumagalli, andiamo a sentire chi c'è da casa. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Pronto, la sentiamo in diretta, ci dica. Salve, senta, una domanda, sono Massimo. Sì, per quanto riguarda il ticket in Lombardia, eri disoccupati. Cioè, fino a due anni fa erano esente tutte le persone che non lavoravano. È stata riconfermata quella roba, anche nella collega c'è. Adesso invece c'è il reddito familiare. Ecco, volevo sapere un suo parere su questa nuova legge. Io trovo un po' ingiusta la cosa dal fatto che una persona se è disoccupata abbia diritto all'esenzione su visiti, esami e quant'altro. Grazie, grazie. Grazie, buonasera. Allora, cerchiamo di capire come funziona per chi ha perso il lavoro. Leggo testualmente l'accordo, così evitiamo le incomprensioni. Per i lavoratori in mobilità, in contratto di solidarietà, i cassi integrati e i disoccupati verranno reintredotte le modalità di esenzione in vigore nel 2011. Mi pare che ci sia la risposta. Quindi per ottenere queste esenzioni però bisogna aspettare che questo testo diventi poi legge. Questo testo però diventerà legge in tempi stretti. Quindi per il momento 2011-2014 c'è stato un blocco. Era in vigore di nuovo per il 2011, era in vigore di nuovo comunque l'esenzione sui tiche farmaceutici per quelle categorie. Non era invece in vigore il resto, però come ho detto qui oggi è avvenuta questa cosa nell'accordo. Mentre invece parlando di quel progetto che abbiamo prima solo abbozzato, che è quello delle cure dentistiche. Andiamo a vedere cosa cambia, perché poi dicevamo che le cure legate ai denti sono quelle su cui in tempi di crisi si tende a risparmiare di più e c'è anche una mancata prevenzione. Se si può risparmiare non si va dal dentista. Certo, è la prima cosa che fa non solo l'anziano, l'anziano in particolare, però non solo l'anziano, non va dal dentista. Questo progetto si chiama progetto d'ontoratrice sociale di qualità, che come ho detto vale solo, ahimè per ora, per l'AS di Milano, per tutti quelli quindi che risiedono nell'AS di Milano, che abbiano, ci sono due requisiti fondamentali. Il primo requisito fondamentale devono avere più di 65 anni, perché è destinato proprio a questi, e con un reddito non superiore a 20.000 euro. Qui si potrebbe disquisire, però da qualche parte bisogna partire. Il progetto triennale, è vero, c'è il limite, io non voglio ingannare nessuno, prevede che possono partecipare un migliaio di persone all'anno. Qualcuno potrebbe essere una domanda se sono 1.200, io credo che le prenderanno lo stesso, però non ho la palla di vetro. Il progetto dice 1.000 persone all'anno per tre anni e i soldi a disposizione sono questi. 20.000 euro di reddito all'anno? Con 20.000 euro, cioè se uno ha fino a 8.000 euro sostanzialmente non pagherà nulla e avrà fatto l'intervento. Se è fino a 12.000 euro dovrei riguardarlo, ma glielo dico subito. Allora, fino a 8.000 euro la prestazione è gratuita, si fa un versamento di 500 euro ad arcata se il reddito è tra gli 8.000 euro e i 12.000 e si fa un versamento di 1.000 ad arcata se il reddito è uguale o superiore a 12.000 e non superiore a 20.000 però. Quei soldi poi possono essere in parte recuperati? Sì, sì, quei soldi possono essere recuperati, cioè l'eccedenza le dice, si può essere recuperato attraverso le normali fiscalizzazioni e defiscalizzazioni. La classica dichiarazione di reddito. Però è importante che questa cosa avvenga, perché ripeto, con tutti i limiti che ha la vicenda, ma se noi mettiamo insieme tutte le innovazioni, vediamo che probabilmente stiamo riuscendo a realizzare una sanità un po' più vicina alle esigenze, perché a differenza del passato bisogna dare atto alla regione Lombardia, a questa giunta che sta governando adesso, che ha fatto soprattutto sul piano sanitario, parlo di quello perché gli altri non li conosco, una scelta territoriale, una scelta di dare sempre maggiori risorse, di favorire gli interventi nel territorio anziché centralizzarli a livello lombardo. Questo sia per le sperimentazioni che per tutte le altre cose inerenti appunto all'attività socio-sanitaria in generale. Perché non vi è dubbio che solo il territorio è in grado di dare una risposta adeguata. Poi quello era anche il senso in cui andava la riforma che ha presentato Maroni, cioè la riforma delle Asla andava proprio in quel senso. La riforma delle Asla. Stare più vicini al territorio, meno centralizzazione su Milano. Ha colto esattamente e mi pare, mi sento di poter dire, che il fondamento principale di questo accordo realizzato con tutte le regioni sindacali va proprio in quella direzione che per noi era molto importante, per non dire prioritaria, ma oserei dire prioritaria. La riassumo velocemente visto il tempo che abbiamo. Il fondamento di tutto è questo nuovo ruolo, se vogliamo, anzi, più che nuovo ruolo, ampliamento delle prestazioni e dell'allargamento degli orari per i servizi di medicina, accompagnato alle sperimentazioni che stanno facendo anche sulle prestazioni diagnostiche, facendole, come dire, non negli orari classici convenzionali, che se no... perché questo serve da un lato avvicinare, come dire, le esigenze nel territorio, come ho detto, ma serve soprattutto l'ampiamento degli orari, va da sé che non dico che risolverà il problema infinito delle lunghe liste d'attesa, ma sicuramente darà un bel colpo, perché è evidente a tutti che se io ho una macchina per fare l'attack, la uso tre ore al giorno e poi altre tre ore sono quelli che sono ricoverati in ospedale. Se invece di usarla sei ore, la uso trenta ore in due giorni, la cosa diventa diversa. Quindi va da sé che questo è fondamentale, anche, soprattutto, per disintasare i pronti soccorsi da prestazioni improprie che avvelenano, come dire, con lunghe attese le esigenze delle persone ed è inutile criticare che ci vanno anche se non hanno bisogno, non serve niente, bisogna dare risposte a questi. Se uno al sabato mattina, soprattutto in una città come Milano, non sta bene, non ha altra scelta oggi che andare a pronto soccorso. Allora io ringrazio Tinufo Magalli per essere stato con noi questa sera, per averci raccontato le innovazioni, infatti, di sanità, che andranno poi, diventeranno presto una legge regionale, in Consiglio regionale della Lombardia, presto appunto approverà questa legge. Ringrazio Tinufo Magalli per essere stato con noi. L'appuntamento con la CISL è per lunedì 18.30 con Paolo Zani, parleremo di pensioni. Buonasera. Grazie. Grazie.